Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nello corso di questo mercoledì 13 aprile avremo tempo. Pienamente stabile da nord a sud grazie all'alta pressione che dominerà su tutto il Mediterraneo centrale. Aria più tiepida nord africana raggiungerà la nostra penisola portando temperature via via sempre più alte ma anche pulviscolo sahariano che sorvolerà soprattutto il nord e il versante tirrenico. In Abruzzo giornata da piena primavera con cieli sereni o a tratti velati per effetto della polvere desertica che raggiungerà il centro Italia. Ovviamente non ci saranno fenomeni annessi. Temperature stazionarie massime tra i 14 e i 17 gradi, minime tra i 3 e i 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni